Un'espansione straordinaria. È la nostra lezione di storia greca sulla colonizzazione dei greci, delle coste dell'Asia Minore, anzitutto, e poi di tantissime altre regioni. Per esempio, vedremo le regioni del Mar Nero e poi soprattutto la Magna Grecia. Quindi la colonizzazione in Italia. Come vedete, abbiamo utilizzato anche il lavoro del professor Francesco Toscano. Ecco, diciamo che i secoli bui del Medioevo ellenico, riguardo ai quali abbiamo solamente delle notizie, diciamo, indirette, come fonte indiretta abbiamo i poemi omerici, sono comunque stati dei secoli in cui si è originata una nuova civiltà, la civiltà greca, di cui parleremo anche la volta prossima, parlando di quella che è la tradizione comune dei greci. Era una società agricola, era una società ingiusta, dice per esempio Esiodo, che aveva scritto Le opere e i giorni, in cui aveva narrato delle condizioni dei contadini assai dure, che dovevano quindi subire lo strapotere dei nobili, proprietari terrieri, che spesso abusavano del loro potere, ad esempio nel campo giudiziario. È chiaro quindi che era una situazione piuttosto difficile. Poi però, piano piano, i villaggi si aggregano fino a diventare delle vere e proprie città. E quindi nasce la Grecia delle Poleis, di cui parleremo le prossime volte. I greci sono i Dori, quindi gli invasori, che hanno invaso la Grecia nel 1200 a.C. Ioni, quindi gli Attici, Eoli, abitanti della Tessaglia, si espandono verso ovest, fondano colonie, abbiamo detto, prima di tutto in Asia Minore. Poi anche in Italia arrivano perfino sulle coste meridionali di Francia e Spagna. Toccano le coste di tutto quanto il Mediterraneo. La prima colonia in Italia è Pitecusa, Ischia, che nella lingua greca significava l'isola degli schiavi. Isola degli schiavi, Pitecusa, Pitecantropo, vi ricordate cosa voleva dire? Uomo scimmia, no? E infatti Pitecusa vuol dire l'isola degli schiavi. La Grecia, come potete vedere, questa fotografia l'ha scattata mia figlia quando è andata in viaggio in Grecia, è prevalentemente montuosa, un po' brulla e arida, diciamo la verità, con valli strette e ripide, poche pianure di una certa ampiezza. Alla frammentazione del territorio condispose la divisione in molte entità politiche. Ma diciamo che la configurazione del territorio favoriva anche, diciamo così, la navigazione. Dal momento che il terreno era così brullo, così aspro, diciamo che la popolazione doveva cercare altre mete, tre mete, dove potersi insediare, no? E quindi era naturalmente portata alla navigazione e quindi alla fondazione di Colonia. Sì, perché, per esempio, soprattutto alcune città, come le città dell'Eubea, che era una piccola isola davanti all'Attica, oppure dell'Istmo di Corinto, come Megara e Corinto stesso, erano città piccolissime. La popolazione si era moltiplicata e letteralmente proprio non ci stava più in questo territorio così ristretto. Memorizziamo alcuni termini fondamentali riguardo all'ecologia. Il primo termine è il termine metropolis, che letteralmente, etimologicamente, vuol dire città madre. La città madre mette a disposizione navi e risorse economiche a questi colonizzatori perché interesse della città anche, diciamo così, alleggerire il peso demografico, quindi della grande quantità di persone che abita nella città e fare in modo che si fondino altre città, ad esempio. Si consulta l'oracolo di Delphi. Come vedremo, spiegheremo anche la volta prossima, l'oracolo di Delphi era una profetessa che dava dei responsi e generalmente quando questi cittadini andavano a chiedere un parere all'oracolo di Delphi questo diceva che era il caso di fondare delle colonie. Certamente l'oracolo di Delphi, quindi praticamente questa sacerdotessa, aveva delle informazioni, sapeva già anche qual era l'interesse e, tra virgolette, anche l'orientamento, ad esempio, degli uomini più influenti del tempo e spesso non faceva altro se non riportare quello che volevano i più potenti nei suoi responsi, anche perché era pagata per questo. Si nomina Lecista. Lecista è il fondatore, è il responsabile della fondazione, con pieni poteri civili e militari. Metti via. Leggiamo, per esempio, un brano tratto dalla guerra del Peloponneso di Tucidide che scrive «Primi tra i greci ad organizzare una spedizione oltremarina in Sicilia furono i calcidesi di Eubea». Ecco, abbiamo già detto che insomma, nell'isola di Eubea c'erano delle città, delle pole, sovrappopolate, sovraffollate e che quindi decisero di fondare delle colonie i quali, diretti da Lecista Tucle, come abbiamo già spiegato, Lecista è il capo della spedizione, fondarono Naxos nel 734 a.C. ed eressero l'altare ad Apollo che ancora oggi si può notare fuori dalla cinta. Su quest'ara, quando delegazioni ufficiali si imbarcarono dalla Sicilia per presenziare a cerimonie sacre, offrono prima al Dio una vittima. Non so se siete mai andati in Sicilia a visitare Giardini Naxos, che è questa bellissima città che è di origine greca. L'anno successivo, Archia da Corinto, uno dei discendenti di Ercole, fondò Siracusa, dopo aver in precedenza espulso i Siculi. Con gli anni anche la città esterna fu congiunta con una cinta di mura e crebbe la densità della popolazione. non so se avete visitato Siracusa, ma Siracusa è una città fatta da due parti e una di queste due parti è praticamente un'isola che è collegata al continente tramite un ponte. Insomma, Tucidide ci parla delle fondazioni delle città in Magna Grecia, quindi in Sicilia. Tucidide era uno storico che aveva scritto la guerra del Peloponneso, però nel corso di questa guerra del Peloponneso a un certo punto si parla della campagna militare in Sicilia e lui spiega un po' quali sono state le prime colonie fondate dai greci in Sicilia. Ma come abbiamo spiegato, i greci erano colonizzatori, quindi non colonizzarono solamente l'Italia meridionale, ma anche altre zone, altre regioni. I coloni ricreano i vecchi usi e i costumi nella nuova patria ci sono gli stessi ordinamenti politici e sociali che vigevano nella madre patria, nella metropoli. La parola metropoli etimologicamente quindi vuol dire città madre. Tra la metropolis e la nuova colonia si conservano stretti legami culturali, religiosi, politici e sociali. Lo vedremo appunto ad esempio nella guerra del Peloponneso. Cioè, certe città erano magari alleate di Atene e anche le colonie di queste città erano alleate di Atene. Altre invece erano alleate di Sparta e anche le colonie di queste città erano alleate di Sparta. Ecco, qui vedete in questa cartina la prima colonizzazione. La prima colonizzazione avvenne tra il 900 e l'800 avanti Cristo verso l'Asia minore. Tra il X e il IX secolo, insomma, i greci si spingono fino alle coste dell'Asia minore e iniziano a stabilire alcune fondazioni. Gli scambi commerciali e culturali con l'altra sponda dell'Egeo legata alle più antiche e progredite e culture dell'Oriente ebbero un ruolo importante nel favorire la ripresa della civiltà greca anche nelle narrazioni dell'Odissea che adesso studieremo in epica a partire da mercoledì di Ulisse. E degli altri racconti dei nostri troveremo, parleremo, vedremo, si parlerà di queste zone, di queste regioni. Ecco, come vedete in questa cartina come vedete in questa cartina ci sono tre regioni della Grecia continentale che sono l'Eolia, quindi la Tessaglia, la Ionia, quindi l'Attica, e la Doride, quindi la regione di Sparta. Da queste zone, da queste regioni della Grecia continentale partono i colonizzatori verso l'Asia minore. Vedete che si distribuiscono proprio in modo diciamo equo. quindi le coste dell'Asia minore settentrionale sono colonizzate dagli Eoli, quindi dagli abitanti della Tessaglia, ad esempio. Le coste dell'Asia minore centrale dagli Ionici, quindi dagli Atenesi, per esempio, o comunque dagli abitanti dell'isola di Obea, e le coste dell'Asia minore meridionali e l'isola di Rodi e di Creta vengono colonizzate dai Dori. la seconda colonizzazione invece, quella che parte dall'ottavo settimo secolo avanti Cristo, avrà come primo obiettivo per favore, mettete via, dedicatevi la storia, adesso basta. Shhh. 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 La seconda colonizzazione quindi avrà anzitutto come obiettivo l'isola di Lesbo, sì. Come obiettivo la Macedonia, la Tracia, poi ancora Bisanzio, per esempio, sarà colonizzata in questo periodo, che poi diventerà Costantinopoli, bravissimo. Poi le coste dell'Asia minore, coste dell'Africa, della Spagna, della Francia e poi soprattutto vedremo dell'Italia meridionale. ecco la prima colonizzazione. La seconda colonizzazione a partire dall'Ottocento avanti Cristo si sviluppa un imponente fenomeno di emigrazione. Le cause furono varie. C'erano dei conflitti politici interni alle poleis. abbiamo già parlato ad esempio dei conflitti fra i grandi proprietari terrieri e i contadini. Gli indesiderati vengono cacciati via e sono costretti a fondare una nuova città. Quando c'era un conflitto interno spesso i greci lo risolvevano in questo modo. Chi era sconfitto insomma in questo conflitto interno doveva andarsene doveva andarsene via dalla città. Però, ripeto, comunque la polis garantiva a queste persone la nave, i viveri eccetera per poter cercare nuovi approdi. Altre cause possono essere la ricerca di nuovi sbocchi commerciali. Cioè come vedremo anche in questo periodo c'è una notevole espansione del commercio greco e quindi il commercio ha bisogno di nuovi per esempio di porti. Infatti moltissime delle colonie che vedremo saranno fondate dai greci saranno essenzialmente dei porti quindi ci sono anche delle classi emergenti in questo periodo che sono quelle dei mercanti e degli artigiani. Ad esempio i vasi greci verranno esportati in tutto il Mediterraneo oppure la ricerca di nuovi sistemi di sostentamento per coloro che erano divenuti poveri per via dicevamo della delle difficoltà economiche o della sovrappopolazione. La colonizzazione greca si orientò poi verso l'Italia meridionale e qui veniamo a parlare proprio della Magna Grecia nel senso fino adesso abbiamo parlato soprattutto delle colonie fondate in Oriente come Mileto che si trova nell'Asia minore fondata probabilmente da cretesi destinata ad avere grande importanza nei secoli ad esempio a Mileto o comunque nelle regioni dell'Asia minore vedremo nasce la filosofia ma poi ad occidente l'Italia meridionale che era ad occidente rispetto alla Grecia e che viene poi chiamata Magna Grecia in latino vuol dire la Grecia grande perché come abbiamo detto spesso queste città greche d'origine erano molto piccole sovraffollate invece adesso si trovano grandi territori da poter colonizzare la colonizzazione si orientò verso regioni più vicine considerate vuote cioè senza importanti interlocutori politici e culturali l'Italia meridionale e la Sicilia era occupata da popolazioni autoctone che però non avevano anzitutto autoctone quindi originale del posto che però non erano molto interessate alle coste ad esempio e quindi spesso diciamo arrivarono i greci occuparono le coste quindi fondarono dei porti come appunto abbiamo detto Naxos Siracusa Acragas Agrigento eccetera eccetera e la popolazione preesistente era comunque nell'interno dell'isola ad esempio e questo anche in altri territori dell'Italia meridionale se vedete infatti questa cartina potete notare che la maggior parte delle colonie greche sono state costruite sulle coste erano essenzialmente dei porti Gela Crotone in Campania abbiamo oltre ad Ischia che abbiamo detto che è stata la prima colonia anche Neapolis Napoli è una parola che in greco originariamente significava nuova polis cioè nuova città Pestum Elea a Pestum ci sono i templi greci meglio conservati sono a Pestum non sono in Grecia qui è proprio vedete alcune delle più importanti colonie greche in Campania come Cuma Pestum si chiamava anche Posidonia perché era una città dedicata al dio del mare a Posidone Ischia Napoli Pestum ed Elea sono le città più importanti a nord i greci non andarono perché incontrarono popoli del Lazio ed etruschi che erano anche più organizzati rispetto alle altre popolazioni italiche che avevano incontrate nell'Italia meridionale e quindi si fermarono e ci fu per un certo periodo di tempo per alcuni secoli ci fu una sorta di convivenza pacifica con latini ed etruschi poi ci furono delle guerre pochi secoli poi ci furono delle guerre in Puglia in Puglia Sparta fonda Taranto in Basilicata e Calabria si fondano Sibari e Crotone abbiamo detto questa è Sibari ad esempio e questa invece è Crotone sì il nome originario poi abbiamo Locri e ancora Reggio sono tutte delle città di origine greca ma sicuramente la parte più importante della Magna Grecia è appunto quella della Sicilia c'erano altre popolazioni comunque in Sicilia che erano i Siculi i Sicani quindi abbiamo detto popolazioni autoctone e soprattutto i Fenici che avevano occupato la Sicilia occidentale e quindi anche qua si creano delle sfere di influenza per cui vedete ci sono delle colonie fenice nella Sicilia occidentale che rimangono che sono quelle di Mozia Palermo Panormus è una città di origine fenicia Lilibeo che poi diventerà Marsala poi abbiamo le colonie invece greche come vedete qui segnate in rosso che sono tutte quelle di cui abbiamo parlato anche in precedenza la prima colonia greca diceva Tucidide in realtà parlava di Naxos vedete qua dove è Naxos oggi Giardini Naxos poi Siracusa nel 733 ma importante fu anche Agrigento Acragas dove fu Tiranno Falaride se andate a Siracusa potete ancora trovare le Latomie che erano praticamente delle carceri cave di calcare sfruttate nell'antichità come carceri la colonizzazione greca provocò importanti cambiamenti ambientali la moltiplicazione di centri cittadini la diffusione di nuove culture i disboscamenti lo sfruttamento delle risorse in ambienti fragili ecco per esempio i greci sapevano coltivare in madrepatria il grano l'ulivo e la vite che cosa fecero quando andarono poi a colonizzare questi territori introdussero queste coltivazioni ecco per esempio vedremo nell'Odissea il racconto di Polifemo è essenzialmente una trascrizione mitologica di un fatto reale cioè arrivarono i greci a portare l'agricoltura perché le popolazioni autotone conoscevano solamente l'allevamento vivevano di allevamento così come i ciclopi vivono solo di allevamento e non conoscono l'agricoltura mentre i greci portano la civiltà portano anche l'agricoltura in Sicilia il paesaggio costiero è segnato dai diversi sistemi di coltivazione terrazzamenti filari viti sorrette da paleo dal berello insomma là dove arrivano i greci portano anche le coltivazioni anche per esempio il grano finalmente i greci hanno a disposizione in Sicilia delle vaste pianure all'interno che invece non avevano in madre patria e queste vaste pianure sono coltivate a grano frumento ecco abbiamo parlato prima della triade mediterranea e abbiamo ricordato la coltivazione dell'ulivo l'ulivo tipica pianta mediterranea richiedeva tecniche di coltivazione complesse questa pianta divenne simbolo di longevità forza e resistenza infatti l'ulivo è una pianta che resiste per millenni per spiegarne il valore furono elaborate complesse mitologie o spiegazioni i greci fecero conoscere l'ulivo in Italia e nel mediterraneo occidentale ovviamente la coltivazione dell'ulivo era collegata con il mito della dea Atena il mito racconta che fu la dea Atena in competizione con Posidone dio del mare a piantare per prima l'ulivo nella città che da lei prese in nome la città di Atene ovviamente conseguenze della colonizzazione è quello che si trova nel vostro libro dove c'è scritto fondare una colonia con la fondazione di colonia nel Mediterraneo nel Mar Nero si ebbe una ripresa economica e culturale la diffusione dell'alfabeto fonetico la moneta coniata allora c'erano state delle scoperte delle invenzioni che non avevano fatto i greci quella dell'alfabeto e quella della moneta ma i greci in questi secoli di colonizzazione portarono l'alfabeto e portarono la moneta anche in regioni in cui assolutamente non si conosceva l'alfabeto non si conosceva la moneta si diffusero infatti moltissimo i commerci la colonizzazione produsse la colonizzazione produsse ma fu anche causa di un intenso commercio tra madrepatria colonia e popolazioni confinanti si sviluppa in questo periodo una classe sociale media gli artigiani i marinai e il nuovo ceto mercantile che come vedremo nelle prossime spiegazioni chiedeva anche di avere un peso politico maggiore dal momento che il potere fino allora era detenuto solamente dai grandi proprietari terrieri adesso c'è però questo nuovo ceto gli artigiani i marinai gli armatori quindi quelli che hanno allestito queste navi i mercanti all'ingrosso e mercanti al minuto si diffonde dicevamo l'uso della moneta all'inizio le monete valgono quanto pesano e quindi monete d'oro monete d'argento dipendeva da quanto pesavano poi però assunsero un valore convenzionale e questo permise anche la diffusione del commercio per cui non era necessario portarsi dietro grandi quantitativi di metallo alla fine del quinto secolo avanti cristo a reggio si definì un valore convenzionale della moneta non più equivalente al valore del metallo di cui era fatta e questa fu una rivoluzione una svolta fondamentale che permise e sviluppò meglio i commerci la moneta ogni città conia monete con un segno particolare che ne permetta l'identificazione le prime monete erano incuse cioè con un'impronta incavata e non a rilievo poi ecco queste per esempio sono le monete incuse di Taranto del sesto secolo avanti cristo poi si costruirono e si fecero invece delle monete a rilievo a un'altra moneta incusa di Sibari queste sono le principali colonie greche nel Mediterraneo nel Mar Nero non dimentichiamo le colonie dicevamo in Francia come Marsiglia in Spagna settentrionale come Emporion già questo nome ci fa capire il valore commerciale di questa di questa città Cirene da cui prende il nome poi anche tutta quella penisola la Cirene penisola Cirenaica Cirene è una penisola che si trova nella Libia orientale Roditera Cirene è in Africa Libia il successo della colonizzazione greca fu tale che nel quinto secolo avanti cristo Platone poté scrivere e così concludiamo anche questa lezione noi abitiamo una piccola parte della terra che va dal fiume Fasi l'attuale fiume Rioni in Georgia ecco infatti anche la storia epica del viaggio di Giasone e di Medea alla conquista del Vello d'Oro testimonia di come i greci avessero colonizzato il Mar Nero fino alla Georgia appunto alle colonne di Eracle lo stretto di Gibraltar stando intorno alle rive del mare come rane o formiche intorno a uno stagno cioè i greci sono paragonati da Platone a delle rane che si trovano nel loro stagno quindi nel loro habitat naturale e l'habitat naturale dei greci è il mare mediterraneo ma tutto quanto il mare mediterraneo dagli estremi confini occidentali le colonne d'Ercole quindi lo stretto di Gibraltar fino agli estremi confini orientali quindi fino anche al Mar Nero dicevamo e alle coste dell'attuale Georgia avete delle domande da fare su questa spiegazione? grazie a tutti grazie a tutti